pronto buongiorno buongiorno mi chiamo francesca orazzi e sono il direttore del personale del teatro regio di torino buongiorno io sono sebastian schwarz sono il direttore artistico del teatro regio sono a toscana estrelli sono un contrabbassista dell'orchestra del teatro regio io intanto mi presento sono giulio laguzzi sono il direttore musicale di palcoscenico per capirci quello che dirige le bande fra le quinte quando in un'opera lirica si sente una banda ci sono io che la dirigo fra le quinte è troppo gentile la ringrazio grazie intanto volevo dire ci mancate e lei ci manca anche voi ci mancate tanto ci mancate tanto abbiamo creato questa questa piccola stagione di concerti per stare un po vicino per portare la musica comunque a casa di chi di chi ci vuole seguire allora quindi io vado sul sito del regio e posso scegliere quello che voglio esattamente esattamente era preparando lo spritz per il nostro streaming grazie a tutti